Non aveva pronunciato nemmeno una parola, ma del resto una lupara puntata in faccia vale più di 100 parole e così il rapinatore muto e mascherato dalla testa ai piedi si era dileguato con il bottino pressa poco di 2000 euro consegnatogli nelle mani dall'attonita titolare della tabaccheria azzurra di Lucrezia di Cartoceto. Il tutto avveniva il 6 di settembre. I carabinieri di Saltara comandati dal maresciallo Antonello Pannaccio con l'ausilio dei colleghi di Fano il 26 di settembre, esattamente 20 giorni dopo, sono riusciti dopo una complessa attività investigativa prima ad individuare e poi arrestare il colpevole. Un pluri pregiudicato di origini calabresi residenti a Lucrezia, disoccupato ed uscito dal carcere da poco meno di un mese per reati simili. Siamo arrivati la sera stessa poi ad individuare un veicolo sospetto notato dalle telecamere anche transitare davanti alla tabaccheria e da lì siamo riusciti a fermare la sera stessa questo soggetto che abita appunto lì da noi a Saltara e dal controllo della perquisizione del veicolo già è spuntata fuori una pistola che occultava sotto al sedile una pistola sia ad aria compressa, una pistola che non sapevamo essere quella utilizzata come arma per la rapina perché era chiaro dalla descrizione che aveva fatto la titolare della tabaccheria che l'arma utilizzata era sicuramente un'arma lunga perlomeno e aveva notato ben distintamente le due canne parallele. Siamo poi passati a quelle dell'abitazione e nell'abitazione abbiamo trovato una serie di oggetti e materiali che provenivano da furti commessi in altre abitazioni sempre nell'ambito del nostro territorio, nel nostro comune. La sua individuazione e le perquisizioni conseguenti hanno consentito oltre che a diversa refurtiva di recuperare altre armi e altri indizi che hanno permesso al magistrato di emettere un'ordinanza di custodia cautelare ma nel frattempo il calabrese con la lupara si era dato alla macchia nel suo paese d'origine coperto dalla numerosa famiglia che ha, anche per un motivo ben specifico. Pensiamo che il cerchio, forse anche dopo la notizia stampa che era stata data un giorno dopo che era stato arrestato un calabrese, ci stava un po' chiudendo e ha preferito, visto che probabilmente non aveva appoggi qui da noi, di recarsi nella sua regione d'origine. Il pressing dei carabinieri di Terranova assieme a Maresciallo Pannurio di Saltara in missione in Calabria non lasciava molto spazio di manovra né all'attitante né ai familiari. Al rapinatore, quindi, su consiglio del suo avvocato, non è rimasto altro che costituirsi e confessare la rapina. Ora si trova nel carcere di Palmi, a disposizione degli inquirenti.